c'è un po' 2000 questa ce l'era proiettato nel futuro non credo che sia questo cuoco cosa pink super thing bongo 3d ci sei super thing bongo 3d si chiama comunque era questo si è detto in italiano 60 602 due giocatori c'è anche dimostrazione ti piega il joystick all'indietro o vista laterale che così non rubi le palle vista laterale c'è vista laterale si movimento racchetta manuale automatico facciamo manuale velocità pallina velocità pallina velox non potevano scrivere anche bella non è stato più corretto puoi aumentare i punti qua gioco di ruolo c'è anche vecchio menu ci stava neanche giochi non c'è una cosa legge vai oh il culo vape cambia la calatura della racchetta c'è alto livello allora lo mettiamo che cosa eh cominciamo cambia di lato prima playa si ok inizio partita sicuramente l'altro aveva una grafica migliore c'erano anche i bambini i bambini col paviglione dai spara non c'è l'audio ma non capisco non devi capire di solo tempo ma non la prenderà mai la palla hai l'effetto 3d troppo 3d per fare effetto della profondità è molto meglio l'altro sicuramente ma guarda questo è un gioco bello dell'assol nooo ah ma lo ricordavo in realtà che del suo non l'ingarro a 1 4 e perchè non alzi il volume effettivamente è molto peggio dell'altro un ottimo gioco ottimo gioco cambia palla guarda perchè deve caricare 3d se non c'è l'audio del gioco che ti dissi scusa e l'audio ci deve essere tanto secondo me non c'è l'audio ma come non c'è l'audio certo che c'è l'audio alza il volume della tv che ne so va beh vai eh senti ah c'è l'audio ti ho detto che c'è l'audio ma te la proviamo così che va beh adesso che abbiamo scoperto questo gioco all'audio lo possiamo anche togliere se no adesso decisamente è più divertente l'altro